La Juventus approda alla semipinale di Champions League dopo 12 anni di attesa. La formazione bianconera di Massimiliano Allegri pareggia 0-0 allo stadio Louis II di Monte Carlo contro il Monaco. All'andata era finita 1-0 per la formazione italiana. In un match con pochi sussulti, ma che ha dimostrato una buona resistenza della Juve nei confronti di quella transalpina, che dal canto suo ha fatto ciò che doveva fare. Nell'altra semipinale il derby spagnolo Real Madrid-Atletico finisce a favore dei Blancos di Carlo Ancelotti, con redde decisiva di Fernandez a 4 minuti dalla fine. Giovedì attesa per i ritorni dei ottavi di Europa League, con protagoniste due formazioni italiane. A Pirenze, Fiorentina di Manochiev si parte dall'1-1 con solidato in terra ucraina. Al San Paolo, Napoli-Wolzburg con gli azzurri di Benitez tranquilli dopo il 4-1 dell'andata.